Ciao ragazzi, benvenuto in questa seconda parte di Pegasus Allora, nel primo round ho vinto, nel secondo round sono stato sfortunato Adesso vedremo nel terzo round come andrà a finire Spero che mi escono le carte giuste e mi vado giusto Allora Vediamo un po' come andrà a finire Ok, si, modalità partita e terza partita Dai, spieghiamo bene Ok, bene Queste due carte mi servivano, queste due Ho questo, questa e mi dovevano uscire Adesso vediamo come andrà a finire Faccia Mamma mia, non mi fanno neanche respirare Adesso si costa Ok, iniziamo subito Iniziamo subito a vocare Adesso sopra lo scuro E non mi fattivare la trappolina Ok, niente Spero che mi attacchi così io posso Fattivare quella trappola Ok, però abbiamo un pochino animato lì Dei su mano Ma come? Perché ho matito questa bella e detta trappola? Oh, mamma mia Ok, allora, sì, non lo faccio vedere Ok, non lo faccio vedere Ok, non lo faccio vedere questa bella Ok, ciao ciao, questo è un giudato Ok, ora, evocheamo il nostro Che dracolato Ok Allora, spero che sia il duello Giusto Allora, vieni prima Attaccare Perché con la carta di sotto Non mi convince mica tanto Ok, niente Allora, se posso andare tranquillo Mettiamo questa posizione di difesa E via Allora, ho messo il nostro in posizione di difesa Ok È una carta aperta Allora, non tanto mi convince Non tanto mi convince Allora, ho messo il gattino Provare a mettere questo No, aspetta Sì, devo rischiare Perché se non lo faccio Allora Vediamo cosa abbiamo qui Come servirà Questa carta Questa carta Questa Questa Questa, ok Ok, spero che ci sia No, spero che non ci sia Forza riflessa Un basso Ok, non penso che non ci sia Allora, niente Mi ricordo questa carta Il 144 Pegasus del cielo Ok Vediamo Vediamo se Me lo fa distingere con la carta A meno che lui non Non semplifica Le Left points Ok, va bene Va bene Ok Allora, questo è il nostro inizio Perfetto Mi ha avventaggio Facciamo una cosa Mettiamo questo in posizione di metà Poi attiverò l'effetto Di Vegas Ok, spero che non lo distingue Ma niente Ok Allora, il 144 Allora, possiamo mettere Tutti in attacco Sì, se no Ok, mi rimasto solamente 700 Misere left points Spero che non Ok, andata bene Allora, metto questa in difesa Ok Attacchiamo Eh, vai ragazzi Sono stato fortunato Visto Delle volte Di capitano così Le carte Lucchino escono bene E spesso Mi capitano a me Finalmente Abbiamo vinto Questo duello Hai sbloccato Durante Maximian Pegas Ricetta Tec Vado ricevuto Il mondo animato L'errigo di Divina Migliore Qua Do it Up 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 By Un sluido avanzata Andarin Berserk Grandora Ah, questa è bella Questa carta 1.900 d'attacco Va bene Oh, che bello Sempre Lady Arpia Prima di questa carta È sempre utilizzata Come Lady Arpia Bellissimo La mia carta preferita Questa qua Poi cosa c'è qua Lord Sheen London Drago dei mari Che Interessa Pozioni Distruttive Sheen Un uomo Che controla Distruggire Potere Le Oh, questo è bello Ecco Stato Mago elementale Ok Perfetto Ragazzi Finalmente Siamo riusciti A battere È sbloccato Anche un trofeo In cima Perfetto Ottimo lavoro È abbattuto Tutti e due Anche la sezione Di questa torre Del S.B.2 Passa la prossima torre E diventa più forte Più forte Ecco Ho sbloccato qui Ah Tristan Telo Ah forte Che decca avrà Poi ci sarà Il fratellino Di Seto Kaiba Un giocolire di Dado Non so chi sia Questo qua Non mi ricordo E Seto Kaiba Ah Seto Kaiba Il mio personaggio preferito Come Gli AmiYuki Ok ragazzi Lascio Fermo qui Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciatemi dei commenti Come state facendo sempre Mettete un bel mi piace Nel video Un saluto a tutti A noi iscritti Grazie a tutti Per avermi seguiti Seguito E ci vediamo Al prossimo momento Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti